Le trattative fra Unione Europea e Regno Unito per la Brexit non stanno andando bene. Il negoziatore capo per l'Europa, Michel Barnier, ha detto che l'ultimo giro di colloqui è stato deludente e non ci sono stati progressi significativi. Qualche apertura, ma modesta, e nessun passo avanti vero sui temi più difficili. Voglio essere chiaro, siamo stati delusi dalla mancanza di ambizioni del Regno Unito, anche in settori che non sono al centro dei negoziati ma sono importanti e simbolici. Ad esempio la lotta contro il riciclaggio di denaro, i rispettivi ruoli di Parlamento europeo e britannico, della società civile, dell'attuazione delle relazioni future. Ha detto, sottolineando che il governo britannico sembra non aver capito quali siano le conseguenze dell'uscita dal mercato unico e dall'Unione doganale.